Benvenuti a tutti voi radioascoltatrici e radioascoltatori. Benvenuti a tutti voi e siamo qui puntuali negli studi di Radio Ecosud in Città 9, provincia di Reggio Calabria. Il nostro programma, come al solito, è settimanale, dialogico e con me c'è sempre qualcuno negli studi perché vogliono stuzzicarmi su quella che è la dottrina della Chiesa. Stiamo portando avanti il Catechismo della Chiesa Cattolica settimana per settimana, passo per passo. Non siamo determinati, vogliamo andare fino in fondo, ma questa sera c'è una novità, è qui negli studi, non troverete ormai la famosa concetta Caccamo. Al suo posto c'è Rita Rasso che ringrazio e saluto, la ringrazio per la sua disponibilità. Appena le ho detto di venire negli studi non ci ho pensato due volte, quindi sono grato per la sua gentilezza e la sua disponibilità. Benvenuta Rita. Buonasera padre, grazie per avermi invitato e buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando da casa. Bene, ormai sembra di grande esperienza, esperienza consumata, complimenti e poi saluto e ringrazio ormai una istituzione, Caterina è sempre qui con noi, la ringrazio per la sua disponibilità e il contributo che darà alla nostra trasmissione. E di che cosa andremo a parlare quest'oggi? Quest'oggi tratteremo i sette sacramenti, voi sapete che i sacramenti sono sette, dal inizio dalla culla fino alla tomba e lei ha istituito la voluta di Gesù, quali sono questi sacramenti lo vedremo. E allora è inutile che stiamo a perdere tempo, visto che siamo in tre qui al tavolo e possiamo partire con la prima domanda. E allora padre, buonasera a lei, a rite a tutti, iniziamo con i sacramenti, quanti sono e chi li ha istituiti? Allora, già avevo anticipato che i sacramenti sono sette, sette nella Bibbia è il numero di perfezione e chi li ha istituiti? Certamente non il Papa, non il Vaticano, non io, non i preti. Vedete, in quest'articolo noi qui, in questa puntata, viene trattato ciò che è comune ai sette sacramenti della Chiesa da un punto di vista dottrinale. E tutta, devo dire, tutta la liturgia della Chiesa è ruota attorno al sacrificio eucaristico e ai sacramenti. Nella Chiesa vi sono sette sacramenti, dicevo, dalla culla, cronologicamente, quando uno nasce c'è il battesimo, poi a seguire riceve che cosa? Riceve la confessione prima della prima comunione, c'è la prima confessione, allora c'è il battesimo, c'è la confessione, c'è la comunione, poi andando avanti uno, c'è la crescima, si crescima, andando avanti c'è la vocazione del matrimonio, c'è il matrimonio, ed è il quinto, oppure, come me, se uno ha la vocazione di essere sacerdote, c'è l'ordine sacro e poi l'unzione dei malati. Quindi Gesù ha pensato, dalla nascita fino all'ultimo respiro, di accompagnarci con i sacramenti. E vedete, si dice che i sacramenti sono di Cristo, poi diremo che sono anche della Chiesa, diremo che sono della fede, ma perché i sacramenti sono di Cristo? Perché, intanto, abbiamo detto che sono sette, sono stati, diciamo così, dei pronunciamenti della Chiesa per dire che sono sette. Come si è arrivato al numero sette? Intanto li troviamo nel Vangelo, nel Nuovo Testamento. Per esempio, il battesimo, non dite mai, è stato istituito al fiume Giordano. Io domando a volte, quando è stato istituito il battesimo? Tutti mi rispondono, al fiume Giordano. No, quello era il battesimo di Giovanni Battista. Il battesimo è stato istituito Gesù, dopo la risurrezione, che ha detto ai suoi apostoli, andate in tutto il mondo, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi, dopo la risurrezione è apparsa agli undici, ha detto, li ha inviati all'evangelizzazione e a battezzarle. Quindi, non al fiume Giordano, quello è Giovanni Battista. E allora, ci sono dei pronunciamenti ufficiali, autorevoli della Chiesa. Quello che citiamo spesso è il Concilio di Trento, dove si afferma proprio che i sacramenti della nuova legge sono stati istituiti tutti da Gesù, nostro Signore. E quindi il Concilio di Trento, non sono io che lo dico. Quindi è un pronunciamento autorevole, il Magistero Papale, il Magistero della Chiesa, il Magistero con un Concilio. E vedete, le parole e le azioni di Gesù nel tempo della sua vita nascosta, del suo mistero pubblico, erano già salvifiche, sia le parole sia le azioni. Però, esse anticipavano la potenza del suo mistero pasquale, annunziavano, preparavano ciò che egli avrebbe donato alla Chiesa, quando tutto fosse stato compiuto. I misteri della vita di Cristo costituiscono i fondamenti di ciò che ora Cristo dispensa nei sacramenti mediante i ministri della sua Chiesa, poiché ciò che era visibile nel nostro Salvatore è passato nei suoi misteri. Questo lo afferma San Leone Magno, un grande santo dei primi tempi della Chiesa. Cosa sono? Sono delle forze che escono dal corpo di Cristo. Un Cristo sempre vivo, vivificante, vivificatore, azioni dello Spirito Santo che operano nel suo corpo che è la Chiesa. Ricordatevi che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Quindi lo Spirito Santo opera attraverso il suo corpo mistico, attraverso la Chiesa. Quindi i sacramenti che cosa sono? Qualcuno l'ha definito i capolavori di Dio, della nuova ed eterna alleanza, ma sono dei capolavori. E allora penso di aver risposto alla domanda di Caterina, chi l'ha istituita e quanti sono? Sono sette, sono state istituiti da Gesù Cristo. E che cosa sono i sacramenti? Vi ricordo la definizione, sono segni efficaci della grazia, istituiti da Cristo. Per che cosa? Per la nostra santificazione. Quindi sono pronta a ricevere la seconda domanda. Padre Rocco, siccome si chiamano sacramenti di Cristo, perché poi vengono chiamati i sacramenti della Chiesa? Ecco, è un'altra bella domanda questa. Sono i sacramenti della Chiesa. Perché sono i sacramenti della Chiesa? Per mezzo dello Spirito, che la guida alla verità tutta intera, la Chiesa ha riconosciuto a poco a poco questo tesoro ricevuto da Cristo, ha preso consapevolezza nel tempo piano piano, e ne ha precisato quella che noi diciamo la dispensazione, come ha fatto per il canone della Divina Scrittura, se è dovuto poi scegliere quali sono i libri sperati o meno, come ha fatto poi per la dottrina della fede. C'è un crescendo, c'è un'evoluzione, c'è un prendere coscienza, quindi graduale, quale fedele amministratrice dei misteri di Dio. Così la Chiesa nel corso dei secoli è stata in grado di discernere che tra le sue celebrazioni liturgiche ve ne sono sette, le quali costituiscono nel senso proprio sacramenti istituiti dal Signore. E l'ho detto poc'anzi. Quindi i sacramenti sono della Chiesa in un duplice significato. Sono dalla Chiesa e sono per la Chiesa. Spiego che cosa voglio dire. Sono dalla Chiesa e sono per la Chiesa. Sono dalla Chiesa per il fatto che questo è il sacramento dell'azione di Cristo che opera in lei grazie alla missione dello Spirito Santo. E sono per la Chiesa perché sono quei sacramenti che fanno la Chiesa. I sacramenti che fanno la Chiesa in quanto manifestano, comunica agli uomini soprattutto nell'Eucaristia quel mistero di comunione del Dio amore. Uno e tre persone. E poiché con Cristo capo forma quasi un'unica persona mistica, questo lo troviamo nella dottrina del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium numero 11. Lumen Gentium è una costituzione dogmatica. Quindi quello che sto dicendo non è farina del mio sacco, non è merce mia, non è il mio pensiero. È il pensiero ufficiale della Chiesa. Tant'è che quello che sto dicendo, se volete potete andare a trovarlo, nel Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1119. Stavo dicendo, poiché con Cristo capo forma quasi un'unica persona mistica, la Chiesa agisce nei sacramenti come comunità sacerdotale, organicamente strutturata. Mediante il battesimo e la confermazione, il popolo sacerdotale è residonio a celebrare la liturgia. Vedete che c'è un sacerdosio ministeriale, c'è un sacerdosio ordinario di tutti voi battezzati. D'altra parte alcuni fedeli, che poi sono insegnati di ordine sacro, come me, io sono un sacerdote, ho ricevuto l'ordine sacro, sono posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio. Abbiamo un ruolo molto importante nella collettività, nell'assemblea e quindi nella Chiesa. Il ministero ordinato, viene anche detto, sapete, sacerdosio ministeriale, è al servizio di quel sacerdosio battesimale di cui parlavo poc'anzi. Ed esso garantisce che nei sacramenti è proprio il Cristo che agisce per mezzo dello Spirito Santo a favore della Chiesa. Quindi noi in persona a Cristo agiamo, questa è la nostra fede, non in altre persone. La missione di salvezza è affidata dal padre al proprio figlio incarnato, poi è affidata agli apostoli. E finite gli apostoli, è il loro successore. Ecco perché noi parliamo di successione apostolica, quando c'è un nuovo vescovo. Noi crediamo nella successione apostolica. Morti i dodici apostoli, sono state sostituite da altri apostoli, poi da altri apostoli, adesso non li chiamiamo più apostoli, li chiamiamo vescovi. È la stessa cosa. Cambia il nome, ma quella è la sostanza. Si chiamano apostoli e sono nella successione apostolica. E questi ricevono lo Spirito di Gesù per operare in suo nome e in persona di Lui. Questo è molto importante, va ribadito. Noi come cattolici dobbiamo sapere quella che è la nostra dottrina. Quindi il vescovo per successione apostolica agisce, opera in nome e per conto di Dio, in persona di Dio. Il ministro ordinate dunque il legame sacramentale che collega l'azione liturgica a ciò che hanno detto e fatto gli apostoli e tramite loro a ciò che ha detto e operato Cristo, sorgente e fondamento dei sacramenti. E allora vedete quello che noi stiamo dicendo deve essere completato ancora con qualche altro spunto che andrò a dire. I tre sacramenti del battesimo, della confermazione dell'ordine, ne avete sentito parlare, credo, quando avete fatto il catechismo, imprimono il carattere, carattere sacramente, o sigillo. Che cos'è il carattere, il sigillo? Adesso lo spiegherò. in forza intanto di questo carattere il cristiano partecipa al sacertozio di Cristo, fa parte della Chiesa secondo state funzioni diverse. Questa configurazione a Cristo e alla Chiesa realizzata dallo Spirito Santo, ragazzi, radiascoltatrici, radiascoltori che seguite il programma, è un sigillo in, de, le, b, le, cioè non si può mai cancellare. Essa rimane per sempre nel cristiano come, ecco che cos'è il sigillo. una disposizione positiva alla grazia come promessa garanzia della protezione divina, come vocazione al culto divino e al servizio della Chiesa. E tali sacramenti infatti non possono dunque ma essere ripetuti. Si ricevono una sola volta questi tre sacramenti. Cioè il battesimo una volta si dà, non è che facciamo la seconda volta il secondo, il terzo e il quarto battesimo, così la confermazione, così l'ordine sacro. C'è il carattere, si imprime il carattere. Mentre gli altri sacramenti si possono ricevere tantissime volte, la corestia, la confessione, l'unzione degli malati, ma anche il matrimonio stesso. Se muore un coniuge si possono passare ad altre nozze. E quindi penso di aver risposto disaurientemente alla domanda di Rita. Assolutamente sì. In maniera saustiva. Grazie. Grazie. Padre Rocco, perché i sacramenti vengono chiamati anche i sacramenti della fede? Vedete quante i primi sacramenti di Cristo, i sacramenti della Chiesa, i sacramenti della fede. E beh, rispondo anche a questa domanda. Allora, Cristo ha inviato i suoi apostoli perché nel suo nome dice, siano predicati a tutte le gente la conversione e il perdono dei peccati. Queste testuali parole che ho citato si trovano nel Vangelo di Luca al capitolo 24 versetto 47 e poi Matteo 28-19 dice ammaestrate tutte le nazioni battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e l'avevo detto poco anzi. Quindi il battesimo lo istituisce Gesù quando dice questo ai suoi apostoli andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio. Quindi la missione di battezzare dunque la missione sacramentale è implicita nella missione di evangelizzare poiché il sacramento è preparato dalla parola di Dio e dalla fede. Tenete presente questi due termini è preparato dalla parola di Dio e dalla fede la quale è consenso a questa parola. Allora vedete che c'è un altro brano che vado a citare nel Concilio Vaticano II che si chiama Presbiterorum Ordinis il latino è un decreto del Concilio Vaticano II che si è chiuso nel 1965 cioè tutta la Chiesa con il Papa dal 62 al 65 hanno tenuto il Concilio a Roma nel Vaticano perché si chiama Concilio Vaticano e il Concilio Vaticano II perché il primo si era tenuto in Vaticano nel 1870 a distanza di circa 100 anni si è tenuto il Concilio Vaticano II e che cosa c'è scritto in questo documento che adesso vi vado a citare dice il popolo di Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della parola di Dio vivente la predicazione della parola è necessaria per lo stesso ministero dei sacramenti trattandosi di sacramenti della fede la quale nasce ecco qui e si alimenta con la parola amiche e amici che seguite ecco perché Padrocco insiste Bibbia 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 i cattolici consentitemi non vi offendete per quello che vado a dire parlo a voi non di voi lo sapete non conosciamo la parola di Dio non ce l'abbiamo non abbiamo manco voglia non la leggiamo non la meditiamo ma io qui da questi microfoni quando Dio mi darà fino all'ultimo respiro lo dirò con tutte le mie forze bisogna conoscere la parola di Dio perché la parola di Dio ecco vedete alimenta i sacramenti i sacramenti vengono e sono insieme con la parola di Dio i sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini l'Istituto di Cristo è per santificarci per tutti gli uomini le santi dobbiamo diventare tutte non solo i preti i frati le suore santi siamo chiamati tutti alla santità allora i sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini all'edificazione del corpo di Cristo e viene a rendere culto a Dio in quanto segni hanno un significato in quanto segni hanno poi anche la funzione di istruire non solo suppongono la fede se non ha la fede non va ai sacramenti quindi i sacramenti suppongono la fede non solo ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono la irrobustiscono la esprimono perciò vengono chiamati i sacramenti della fede solo per questo ecco perché sono sacramenti della fede la fede della Chiesa precede la fede del credente quando uno viene il battesimo viene a battezzarsi c'è già la fede della Chiesa quindi la fede della Chiesa precede quella del credente che è invitato ad aderirvi quando la Chiesa celebre i sacramenti confessa la fede ricevuta dagli apostoli da qui l'antica d'agio che conosce un po' che ha reminiscenze di latino si diceva l'ex orandi l'ex credendi la legge di preghiera la legge di credere la legge della preghiera è la legge della fede cioè cosa voglio dire attenzione a quello che dico state un pochino non vi distraete la Chiesa crede come crede come prega volete sapere qualcuno mi dice io ho la fede sapete io ho un termometro per misurare se veramente avete fede o meno e quanto ne avete ditemi come pregate quanto pregate e io vi dico se avete fede non pregate non avete fede pregate poca avete poca fede avete molta fede pregate molto perché capite il significato della preghiera la potenza della preghiera la gesta della preghiera la preghiera è come il respiro quindi la Chiesa crede come prega la liturgia è un elemento costitutivo della santa e vivente tradizione per questo motivo nessun rito sacramentale può essere modificato o manipolato dal ministro da un sacerdote o dalla comunità a piacimento e neppure l'autorità suprema della Chiesa sapete può cambiare la liturgia a sua discrezione ma unicamente nell'obbedienza della fede e nel religioso rispetto del mistero della liturgia vedete che dove andate andate se andate a messa o qui non so cittanova reggio catanzaro milano terranova taurianova la messa è quella il rito è quello può esserci il prete nero il prete bianco il prete simpatico ma il rito non si cambia si possono modificare alcune parole dove li opinabili all'inizio della messa fratelli per celebrare la santa messa lì sì ma non è la sostanza ecco perché vi dico nessuno può modificare quelle che sono i sacramenti inoltre poiché i sacramenti esprimono sviluppano la comunione di fede della Chiesa l'Alexo Randi è uno dei criteri essenziali del dialogo che cerca di ricomporre l'unità dei cristiani ragazzi mio è più chiaro di così non so parlare padre ci può spiegare perché sono detti i sacramenti della salvezza e soprattutto che cosa si intende per salvezza in maniera proprio pratica e meno male che la prima volta che viene negli studi vuole mettermi in difficoltà mi dice se posso spiegare perché i sacramenti sono i sacramenti della salvezza salvezza in che senso che significa i sacramenti della salvezza e che cosa ci devono salvare vediamo allora di andare piano piano come il nostro costume il nostro solito di essere chiari per chi segue i nostri programmi vi ricordo che i nostri programmi non sono di leggeri la radio Radio Ecosud è completa sono anche programmi formativi non solo di intrattenimento sono ragazzi per bambini potete seguire il nostro programma per via radio tutti i sabbati alle ore 18 circa dopo le notizie radio e replica domenica alle ore 8 mentre per Gemma TV potete seguire con video alle 16.30 sabato pomeriggio e replica domenica alle 16.30 detto questo i sacramenti della salvezza intanto devono essere decorosamente degnamente celebrati nella fede e allora dico degnamente celebrati i sacramenti conferiscono la grazia che significano sono segni hanno la grazia la conferiscono quella grazia che è significata e sono efficaci ve lo dico io perché sono segni efficaci sono efficaci perché in essi agisce Cristo stesso ecco perché non ci può essere vita di fede senza vita sacramentale come si fa a dire io sono un credente ma non un praticante io non vado alla chiesa e non frequento i sacramenti ma sono bagianate consentitemi il termine scusatemi di questa franchezza se agisce Cristo e se la grazia passa attraverso i sacramenti ma come si fa a vivere una vita di fede senza frequentare la chiesa senza i sacramenti e non è c'è una fede fatta a te o c'è una salvezza fai da te nessuno si autoassolve nessuno si autoproclama nessuno va in paradiso da sé il salvatore è Gesù e Gesù ha voluto la chiesa l'ha istituito lui i sacramenti l'ha istituito lui non noi altri poveri preti che siamo limitati poveri strumenti ma con la dignità sua abbiamo l'ordine e quindi siamo abilitati a questo e quindi è Cristo è lui che battezza io battezzo nel nome del padre il figlio e lo spirito santo non nel nome mio nel nome della chiesa è lui che battezza è lui che opera nei suoi sacramenti per comunicare la grazia che il sacramento significa il padre esaudisce sempre la preghiera della chiesa del suo figlio la quale vedete c'è un termine tecnico l'ho detto anche altre volte si chiama epiclesi l'epiclesi è l'invocazione la discesa dello spirito santo perché discende lo spirito santo il termine tecnico che noi usiamo viene dal greco e quindi epi caleo cioè epi vuol dire in alto chiamiamo invochiamo lo spirito santo vedete il sacerdote soprattutto lo potete notare quando venite a messa la domenica c'è il momento della consacrazione il sacerdote a un certo punto dice ora ti preghiamo padre invoca lo spirito santo sulle offerte sul pane e sul vino perché diventa nel corpo il sacro quello si chiama epiclesi allora nell'epiclesi cioè in questa invocazione per la discesa dello spirito santo nell'epiclesi di ciascun sacramento esprime la propria fede nella potenza dello spirito e vi faccio l'esempio del fuoco questo è un esempio classico come il fuoco trasforma in sé tutto ciò che tocca avete presente una fornace no? mettete trasforma tutto il fuoco trasforma in sé anche se mettete un pezzo di ferro arruggerito grande alla fine diventa rosso 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 diventa fuoco col fuoco si confonda col fuoco quindi come il fuoco trasforma in sé tutto ciò che tocca così lo spirito santo lo spirito santo trasforma in vita divina ciò che è sottomesso alla sua potenza e questo è il significato dell'affermazione della chiesa e i sacramenti un altro termine tecnico che dovete imparare se non avete studiato il latino dice che i sacramenti agiscono ex opere operato al latino e vi spiego che cosa vuol dire un termine tecnico significa per il fatto stesso che l'azione viene compiuta per il fatto stesso che viene compiuta non ex opero operantis non dipendono dall'opera di chi opera cioè del prete o dal vescovo in quel momento il sacramento non dipendono da lui l'efficacia non dipende dal prete ma dipende dal fatto stesso che l'azione viene compiuta anche se il prete fosse indegno fosse peccatore in quell'attimo il sacramento è valido per chi lo riceve lui farà un sacrilegio lui farà una cosa illecita una cosa che non deve essere ma il sacramento è valido perché il sacramento agisce ex opero operato non ex opero operantis dell'operante non c'entriamo niente noi cioè in virtù dell'opera salvifica di Cristo compiuta una volta per tutte per tutte e ne consegue che il sacramento non è realizzato dalla giustizia dell'uomo che lo conferisce o lo riceve ma dalla potenza di Dio e questo è dottrina di Sant'Omasso d'Aquino nella Suma Teologie lo dice Sant'Omasso d'Aquino questo quando un sacramento viene celebrato in conformità all'intenzione della Chiesa la potenza di Cristo del suo spirito agisce in esso per mezzo di esso indipendentemente dalla santità personale del ministro però bisogna anche dire diciamo anche qualche altra cosa questo non significa che dobbiamo ecco se il ministro è santo meglio ancora deve essere santo tocca cose sante tuttavia i frutti dei sacramenti dipendono anche dalle disposizioni di colui che li riceve così vale anche per voi che ricevete i sacramenti bisogna andare con tutte le disposizioni con la grazia di Dio e poi c'è un pronunciamento del concilio di Trento dove si dice che la Chiesa afferma che per i credenti i sacramenti della nuova alleanza sono necessari per la salvezza ecco perché i sacramenti della salvezza perché sono necessari per la salvezza eterna per la vita eterna per la vita soprannaturale ecco la domanda che mi è stata fatta andava in questa direzione e quindi rispondo dicendo che lo dice il concilio di Trento tenuto a Trento siamo intorno al 1500 da lì poi è nato il discorso con i protestanti Lutero e company e quindi la Chiesa ricordo le formulette in latino quando non studiavamo teologia dice si quis dixerit anatemisit cioè se qualcuno dirà che contrae non fa parte della comunità della Chiesa quindi il concilio di Trento è stato molto preciso e quando dice afferma che i credenti ecco sono necessari hanno bisogno dei sacramenti la grazia sacramentale e la grazia dello spirito santo donata da Cristo è proprio di ciascun sacramento lo spirito guarisce trasforma coloro che li ricevono conformandola al figlio di Dio il frutto della vita sacramentale sapete qual è è che lo spirito di adozione quasi quasi deifica ci fa diventare come dei guardate è venuto Gesù nell'incarnazione se faremo il Natale fra pochi giorni prende la carne si fa uomo perché l'uomo possa diventare Dio possa avere l'eredità di Dio figlio di Dio quindi è una cosa immensa altro che auguri auguri buon Natale buon Natale tante volte facciamo la festa senza il festeggiato oppure siamo materialisti quattro luminarie una cena un pranzo una fetta di panettone ma questo non è il Natale Natale è essere la gratitudine un Dio che viene in mezzo a noi un Dio che non vuole stare nella culla ma vuole stare nella culla del nostro cuore dobbiamo preparargli fargli spazio nelle nostre famiglie tornate a fare i presepe nelle vostre case sentite un consiglio che vi da padrocco spagnolo i segni nostri cristiani non ne abbandoniamoli torniamo ai segni facciamo il presepe anche l'albero certo perché no ma il presepe lo spirito guarisce trasforma coloro che ricevono i sacramenti conformandoli al figlio di Dio e il frutto della vita sacramentale è che lo spirito di adozione deifica i fedeli unendoli vitalmente al figlio unico cioè al salvatore e poi diciamo anche che sono ecco c'è qualche altra cosa da dire sui sacramenti e così chiudiamo chiudiamo la chiudiamo la possiamo chiudere anche la nostra puntata padre Rocco perché si dice che sono i sacramenti della vita eterna avete visto allora quante cose abbiamo detto sui sacramenti siete sacramenti sono di Gesù sono della Chiesa della fede per la salvezza adesso perché sono i sacramenti della vita eterna ma più o meno possiamo dire che abbiamo già risposto però cercherò di dire qualche altra cosa quello che abbiamo già detto la Chiesa celebra il mistero finché egli venga e Dio sia tutto in tutti dice San Paolo alla prima lettera ai Corinti dall'età apostolica quindi la liturgia è attirata verso il suo termine dal gemito dello spirito della Chiesa dice c'è quella famosa frase Maranatà cioè vieni Signore Gesù invochiamo il Signore che venga la liturgia quindi condivide così il desiderio di Gesù che diceva detto ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi finché essa non si compia nel regno di Dio quindi nei sacramenti di Cristo la Chiesa già riceve la caparra della sua eredità già partecipa alla vita eterna pur nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio Salvatore Gesù Cristo quindi lo spirito e la sposa dicono vieni vieni Signore Gesù Maranatà significa vieni si invoca ecco il Signore che venga e San Tommaso riassume così le diverse dimensioni del segno sacramentale con questa citazione di San Tommaso possiamo chiudere quella che è la nostra puntata di oggi sapete che diceva San Tommaso d'Aguino diceva che il sacramento tre cose diceva sui sacramenti allora il sacramento è segno commemorativo del passato perché ricordiamo quello che ha istituito Gesù ossia della passione del Signore dice inoltre è segno dimostrativo del frutto prodotto in noi dalla sua passione cioè dalla sua grazia quindi dimostra la grazia di Dio commemora la passione e dimostra la grazia ed è segno profetico perché rianunzia la gloria futura una bella sintesi di San Tommaso e quindi possiamo essere soddisfatti anche della puntata padre come di consueto lei che cosa ne pensa di questa puntata ci può fare una sintesi ecco allora io sono rimasto contento della puntata intanto e come al solito perché abbiamo il tempo ringraziamo anche Radio Eco Sud ringrazio anche il nostro regista e il professore Mimmo Calogero a cui faccio gli auguri più belli per il Santo Nastale per lui e i suoi cari la sua famiglia e sono rimasto contento perché è scivolata via ma anche ci siamo accorti e per fare una sintesi devo dire quattro cosette in modo tale che possono essere tenute da chi ha seguito il nostro programma in modo chiaro allora la prima cosa che va tenuta presente secondo il mio modesto parere che i sacramenti sono segni efficaci della grazia istituiti da Cristo per santificare basterebbe tenere questo portano frutto in coloro che le ricevono con le dovute disposizioni le disposizioni richieste e quindi dopo che abbiamo detto questo dobbiamo dire che i riti visibili con i quali i sacramenti sono celebrati significano realizzano le grazie proprie di ciascun sacramento ed è la prima cosa quindi segni efficaci della grazia istituiti da Cristo per la salvezza quindi dico ancora ribadisco non per essere voglio tediarvi che non si può avere vita di fede vita di grazia senza i sacramenti non si può dire io sono credente ma non praticante non è vero proprio nulla non è autogiustificatevi non autoassolvetevi bisogna praticare la grazia passa attraverso questi canali Gesù stesso ha voluto passare la grazia a noi attraverso i canali sacramentali non si riceve altrimenti secondo la chiesa celebra i sacramenti come comunità sacerdotale che è strutturata mediante il sacerdosio battesimale ma soprattutto quello dei ministri ordinati ci sono i sacerdoti i diacono i vescovi che amministrano i sacramenti terza cosa lo spirito santo prepara i sacramenti per mezzo della parola di Dio e della fede la parola di Dio e la fede che accoglie la parola nei cuori ben disposti allora i sacramenti fortificano ed esprimono la fede fortificano non sono verbi messi qui a caso hanno un loro peso l'ultima cosa il frutto della vita sacramentale è ad un tempo personale ed ecclesiale riguarda sia la persona che la chiesa da una parte tale frutto è per ogni fedele vivere per Dio in Cristo Gesù dall'altra costituisce per la chiesa una crescita nella carità nella sua missione di testimonianza e quindi possiamo essere ben soddisfatti della puntata basta questo allora non mi resta che ringraziare tutti voi della pazienza della vostra benevolenza a seguire i nostri programmi ricordate che questa è una catechesi settimanale dialogica e ringrazio come al solito Caterina per il suo contributo e la sua presenza grazie Padre a voi tutti e ringrazio Rita per la prima volta se l'ha cavata molto bene complimenti allora ci sarà anche la seconda volta la terza e la quarta mi auguro grazie Padre grazie per avermi invitato e grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato e hanno avuto da imparare come ho imparato io tantissime cose anche stasera buon Natale e grazie a tutti e allora voi che avete seguito i nostri programmi con questa voce fresca nuova e auguro a tutti Santo Natale a tutti voi un mondo di bene che Dio vi benedica e vi do la mia anche benedizione e a risentirci arrivederci alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti